Hanno meritato la vittoria perché comunque hanno giocato meglio, sono stati più continui, hanno fatto meglio l'uomo in più, giustamente hanno fatto la loro partita. Noi abbiamo avuto forse qualche occasione in più nei primi due tempi, poi un po' ci siamo sgonfiti. Anche perché mancando tre persone alla fine ci ritroviamo un attimino sempre in difficoltà nella seconda parte della partita. Noi era andata con loro, abbiamo vinto ma probabilmente loro hanno sbagliato nettamente la partita e noi abbiamo forse fatto la miglior partita di questo torneo di Serie A. Loro sicuramente hanno giocatori dal punto di vista sia tecnico che tattico superiori ai nostri. Abbiamo faticato perché sono giocatori di esperienze pesanti e in più non siamo riusciti a finalizzare i pochi uomini in più che abbiamo ottenuto. Abbiamo perso la bussola, conti via, tre gol fatti per loro, errori proprio banali, il portiere non ha presa, io sul terzo gol sono andato a difendere sul pallo lungo, il posto di difendere il pallo corto, errori personali che hanno inciso sull'andamento della partita. L'arbitraggio, buon arbitraggio, fischiavassi da una parte o dall'alto, questo è stato per noi il miglior abito che abbiamo visto in tutta l'andata e anche il ritorno. Buon arbitro, loro sono due o tre buoni elementi, siamo riusciti a fare tirare chi non doveva tirare. Grazie.